Ciao amici, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi finalmente siamo tornati con il lunedì Lucerino, solita rubrica dedicata alla squadra della mia città che è Lucera Calcio. Lucera che ieri sul neutro di Candela ha pareggiato 1-1 contro la Virtus Palese e dunque ha conquistato il primo punto della stagione in promozione. Allora, parliamo della partita. Il Lucera che passa subito in svantaggio con la rete della Virtus Palese con assist di Miccoli e gol di Terrone che di prima la mette all'angolino basso alla sinistra di Di Michele che non può far nulla sul tiro e dunque gol di Terrone che appunto è un giocatore veramente di esperienza che ha giocato in eccellenza col Manfredonia e ha giocato anche l'anno scorso con il bitritto. Poi Lucera che dopo il gol della Virtus Palese non molle fa a lui la partita. Cioè, vedete che abbiamo dominato noi questa partita perché comunque la Virtus Palese non ha fatto diciamo tante azioni pericolose. Lucera domina la partita e al primo tempo cerca subito il pareggio con il tiro di Di Cana che finisce fuori di poco al lato alla destra del portiere. Poi al 34esimo arriva il primo gol in promozione in questa stagione con assist di Manna, cross basso appunto del terzino ex Manfredonia e piattone di Pozzo Zengaro che la mette alla sinistra del portiere. Dunque pareggio per il Lucera. Lucera che poi sfiora anche il 2-1 con il tiro di Gallo al vuole, la grande parata del portiere anche se in quel tiro era abbastanza centrale. Dunque è stata una grande parata da parte del portiere del Palese. Poi si arriva al secondo tempo dove il Lucera si mangia 3-4 gol con prima con Pozzo Zengaro che è servito da Di Cana al volo con il destro la mette fuori non so come, poi era anche davanti al portiere non so come ha fatto a sbagliare così come non so neanche come ha fatto a sbagliare Menguni che con una grande azione diciamo quasi alla Pogba dei migliori tempi passa in mezzo a due uomini poi tira con il sinistro. Altra grande parata del portiere. Poi c'è stato un altro tiro di Di Cana che diciamo l'ha messa quasi all'angolino alla sinistra del portiere che poi ha parlato anche questo tiro. Che dire, poi è finita così la partita. Poi è finita la partita con la Virtus Palese in 9 uomini perché comunque sono stati espulsi due giocatori del Palese. Non siamo riusciti a vincere, ci siamo mangiati tanti gol e loro erano anche in nuve. Che dire, pareggio che comunque è immeritato perché meritavamo sicuramente la vittoria però però dobbiamo segnare come cioè ritorniamo sempre allo stesso discorso della partita con il San Ferdinando. Dobbiamo segnare, dobbiamo essere più cattivi sotto porta perché va bene che abbiamo fatto il gol dell'1-1 che comunque ci sta. Abbiamo pareggiato, abbiamo segnato però questa partita la dobbiamo vincere. Dovevamo fare penso minimo altri 3-4 gol. Cesta partita va a finire minimo 4-5-1 per il Lucera. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta. La dobbiamo sfondare questa porta perché ci siamo mangiati troppi ma troppi gol. Veramente cioè ragazzi Lucera gioca benissimo, cioè crea moderazioni spettacolari, ma dobbiamo essere più concreti sotto porta. Ci vuole la cattiveria, ci vuole la cattiveria sotto porta. Purtroppo c'è anche da dire che comunque il portiere del palese ha fatto anche grandi parade però dobbiamo essere cattivi sotto porta, dobbiamo segnare di più. È vero comunque siamo anche sfortunati però dobbiamo essere più cattivi. Se siamo più cattivi sotto porta, le partite sicuramente le vinceremo. Adesso la prossima partita sul campo della Rutiglianese che ieri ha perso 2-1 contro il Donova, poi lo andremo a vedere nei risultati di ieri. Che dire, punto guadagnato, almeno abbiamo guadagnato un punto, è sempre meglio di una sconfitta però dobbiamo essere più concreti sotto porta. Va bene ragazzi, allora andiamo a vedere gli altri risultati che appunto appariranno in questo momento alla mia sinistra che è per voi la mia destra però va bene. Allora con il Donova che ha vinto 3-1 in casa contro la Rinascita Rutiglianese, lo Spinazzola ha vinto 4-0 in casa del Capurzo, poi 1-1 tra Lucera e Virtus Palese, 1-1 anche tra Nuova Daunia, Foggia e Levante Azzurro, poi l'Atletico Acquaviva che vince 3-0 in casa del Real San Giovanni, stesso risultato per la Virtus Mula che ha battuto il pitrito e poi la Virtus San Ferdinando che vince al 99esimo, 2-1 in casa del Città di Trani. Mamma mia, un risultato, diciamo forse sorprese, un risultato veramente incredibile perché comunque il Città di Trani è una bella squadra quest'anno, quindi un grande risultato della Virtus San Ferdinando e complimenti a loro. Tanto, tutti i risultati, in questo momento apparirà la classifica che è questa qui dove a punteggio pieno ci sono la Nuova Spinazzola e la Virtus San Ferdinando con 6 punti, poi a 4 punti ci sono la Nuova Daunia Foggia, Levante Azzurro e l'Atletico Acquaviva, poi a 3 punti ci sono la Virtus Mula, il Donuva, la Rinascita Rutiglianese e il Dritto, poi a 1 punto Lucera, Virtus Palese e Città di Trani e infine a 0 punti Rialzan Giovanni e Capurzo. Allora, andiamo a vedere la prossima giornata che sarà la terza di questo campionato che si giocherà domenica prossima dove il Lucera non giocherà alle 3 e mezza, ma giocherà direttamente alle 11 del mattino, quindi si giocherà alle 11 e quindi forse uscirà anche la reaction, però penso di sì, al 90% penso di sì, ieri purtroppo non l'ho fatta perché stavo facendo il raccattapalle e quindi non potevo andare a prendere il pallone con un telefono in mano, quindi non uscirà la reaction di Lucera Palese, ma almeno gustatevi questo lunedì Lucerino, sperando che poi uscirà la reaction della prossima partita contro la Rutiglianese fuori casa. Dunque, la prossima giornata è questa qui con il Lucera che aprirà questa giornata alle ore 11 in casa della rinascita rutiglianese, poi l'Atletico a cui sfiderà la Virtus Palese in casa, il Bitritto ospiterà il Real San Giovanni, poi l'Evento Azzurro invece sfiderà il Don Uva, poi c'è una bella partita questa tra Nuova Spinazzola e Città di Tranni, poi Virtus Mola contro Capurzo e infine Virtus San Ferdinando contro Nuova Donia Foggia. Allora, sfidiamo la rinascita rutiglianese, la rinascita rutiglianese che diciamo è rimasta diciamo sempre la squadra dello stesso anno, ha perso il bomber Chiumarulo se non si chiama così, il loro bomber Chiumarulo che l'anno scorso ha fatto 18 gol in campionato Chiumarulo che poi è andato ovviamente alla Virtus Mola, però che a dire è rimasta diciamo sempre la squadra l'anno scorso, ha aggiunto altri giovani di qualità, però dobbiamo vincere è una partita che si deve vincere, poi comunque andremo su un campo che l'anno scorso appunto come abbiamo visto non è messo benissimo, però vedremo come sarà messo questa volta sarà una trasferta insidiosa perché comunque non è facile giocare in casa della rutiglianese l'anno scorso abbiamo vinto 1-0 grazie a un calcio di rigore di balletta più con quella vittoria andiamo al secondo posto e poi ci fu una debacle assurda perché facemmo due sconfitte consecutive e un pareggio andammo forse al sesto posto se non sbaglio vabbè ragazzi allora spero che questo video vi sia piaciuto, commentate, iscrivetevi al mio canale e niente ci vediamo lunedì prossimo con il lunedì lucerino di rinascita rutiglianese forse lucera, oltre il pareggio, la sconfitta, la vittoria sempre forza lucera ciao ragazzi